Ciao ragazzi, come va? Solamente per mandarvi un saluto di buona Pasqua, tanti tanti auguri, spero che tutti stiate molto bene. Vi saluto qua dalle colline di Remisch in Lussemburgo. Vi faccio vedere da quella parte la Germania, ci separa dalla Germania il fiume Moselle e da questa parte tutte queste colline che a me piacciono tantissimo, che sono i vigneti di Remisch, i vigneti della Moselle, che anche creano un vino fantastico. Qui come potete vedere ci sono tantissimi sentieri che si possono camminare, qui le colline vanno verso sul tipo 15 chilometri e verso nord altri 10 chilometri e abbiamo tantissimi sentieri, tantissimi chilometri veramente qua per passeggiare e uno spettacolo. Vi consiglio veramente se avete un po' di tempo di approfittare di questo bellissimo tempo, questa bellissima temperatura, che c'è il sole e uscire un pochettino a godervi queste colline di Remisch. Un forte abbraccio e tanti auguri di buona Pasqua, Rick Serrano!